Buongiorno ragazzi, bentornati al canale come sempre giù di Mosco e Vita. Se vi ricordate un pochino di tempo fa c'era stato un hackeraggio del mio canale, avevano eliminato il mio video più visto, allora avevo pensato, ora lo rifaccio. Però, grazie a Giuseppe mi ha mandato il video che aveva salvato, l'ho rivisto ed è perfetto, anche se è di un anno fa, le informazioni sono valide anche oggi ovviamente, dato che è fatto tutto secondo la ricerca scientifica, quindi io vi dico, apprezzate questo video, guardatevelo bene, è un piccolo recap di tante cose che già sapete, se vi piace lasciateci un like che mi aiuta tantissimo, condividetelo se volete aiutarmi a farlo raggiungere più persone possibile, io spero che vi piace questo video, godetelo, ci vediamo dopo. Siamo sistemati, pronti, eccoci qua. Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre giù di Musco e Vita, oggi non farà un vlog, sarà un video informativo perché lo sapete, voglio sempre, e comunque con questo canale sì è vero farvi un po' vedere la mia vita di tutti i giorni, ma mi va anche veramente di darvi consigli utili che potete applicare in palestra, aiutarvi a non commettere gli stessi errori che ho commesso io. Quindi iniziamo subito, questo sarà un two video series, quindi farò due video a riguardo sulle dieci cose che avrei voluto sapere prima di iniziare la palestra, quindi prima di leggermi e perdermi tra tutte queste cavolate diffuse nell'industria, queste sono veramente le dieci cose secondo me principali che molti di noi sbagliamo, soprattutto lifter principianti o giovani, perché ci vengono dette magari da gente che noi riteniamo più esperta di noi e veramente però sono miti, miti da bro, cose che noi dobbiamo evitare, quindi iniziamo. Prima cosa che avrei voluto sapere, non esiste una dieta speciale magica per bruciare grassi, che cosa intendo con questo? Esistono numerosissimi e diversi tipi di diete, tra cui la chetogenica, la dieta da bro, ovvero mangiare solamente cibi puliti, pollo, broccoli, eccetera, eccetera, diete low carb, low fat e diversi tipi di dieta. E anche io la prima volta che volevo perdere grassi, ho letto un po' di cose su internet e ho subito pensato che i carboidrati fossero la cosa negativa, fossero da eliminare per bruciare grassi. E in effetti ho perso tanto peso in quei due anni, però non l'ho fatto in modo strutturato, non sapevo niente, ho semplicemente eliminato tutti i carboidrati, ho iniziato a smettere di mangiare carboidrati la sera, sicuramente ho bruciato grassi e ho perso tanto peso, però non l'ho fatto in modo ottimale, il peso che ho perso non era tutto grasso, era anche sicuramente un po' di massa muscolare magra, quindi alla fine della dieta non è che avevo migliorato troppo la mia composizione fisica corporea. Per questo quello che veramente volevo farvi capire non esiste una dieta speciale o magica, non è che se elimini i carboidrati inizierai a bruciare grassi e che tutti noi dobbiamo eliminare i carboidrati, no, la dieta in sé è solamente un metodo, un approccio per farti arrivare automaticamente a un singolo obiettivo, che è il deficit calorico. Per bruciare grassi qualsiasi tipo di dieta funziona tutto nello stesso modo, è un modo, è una dieta che prova a metterti automaticamente in un deficit calorico. Questa è scienza ragazzi, tutte le diete funzionano in questo modo, anche la dieta chetogenica, quindi dimenticatevi delle diete perfette, se venite a chiedermi qual è una dieta per bruciare grassi, io ti dico devi andare in deficit calorico, lo puoi fare seguendo qualsiasi dieta che ti pare, il carb cycling funziona allo stesso modo che la dieta chetogenica, che è una dieta da bro, che è la dieta flessibile. Quello che a me piace veramente è la dieta flessibile, il fatto che conti calorie e macronutrienti, quindi vai veramente alle basi del problema, perché monitorando questi numeri giornalieri è così che tu controlli 100% il tuo fisico. E' questo che mi piace, la dieta flessibile, magari perché sono un ingegnere e è un approccio che va molto bene con il mio modo di pensare, è tutto ben strutturato, se tu segui e colpisci i numeri in modo costante brucerai grassi, è molto più semplice di ogni altro tipo di dieta in cui magari elimini i carboidrati e speri di bruciare i grassi. In questo modo invece con la dieta flessibile, macro e calorie sei sicuro al 100%. Passiamo al passo numero 2. La seconda cosa che avrei voluto sapere è che non possiamo bruciare grassi in una parte specifica del corpo. Anch'io da piccolo avevo i fianchi e volevo bruciare le maniglie del lavoro, volevo bruciare soprattutto il grasso sull'addome e quindi ho iniziato a fare mille, ma migliaia e migliaia di ripetizioni di crunch da seduto, da terra, i miei mi vedevano prima, dopo cena, provavo a fare di tutto pensando che se faccio gli addominali riesco a bruciare il grasso che è sull'addome. In realtà gli addominali l'unica cosa che fanno è che scolpiscono il muscolo sotto il grasso. Voi potete scolpire tutto il muscolo che volete facendo mille ripetizioni, ma se avete uno strato di grasso che li ricopre non li vedete mai. Quindi è impossibile proprio in modo scientifico, fisiologicamente, per il nostro corpo bruciare grassi in una parte specifica del corpo. È impossibile se io inizio a fare tanti bicipiti che brucio i grassi nel bicipite, perché bruciare grassi è un processo full body, è un processo che dobbiamo essere in un deficit calorico e il nostro corpo decide da dove vuole bruciare il grasso. Questo è legato alla genetica, ognuno di noi ha magari dei punti più forti, punti più deboli, punti che magari bruciano grassi più rapidamente e altri meno rapidamente. Globalmente abbiamo tutti più o meno lo stesso problema che è l'addome e i fianchi, quindi per tanta tanta gente, magari per la media della popolazione, quelle sono le due parti più difficili per noi da bruciare grassi. Ma dimenticatevi, non potete bruciare grassi solamente in una parte corporea, dovete mettervi in un deficit calorico, aspettare, essere costanti, pazienti e vedrete che bruciate grassi anche in quella parte del corpo. La terza cosa che avrei voluto evitare era di cadere nel mito che bisogna mangiare ogni due o tre ore per mantenere i livelli di metabolismo elevati per bruciare più calorie e soprattutto non vi dimenticate, mangiate massimo massimo 30 minuti post workout, perché se non mangiate 30 minuti post workout avrete perso tutto, tutti i vostri sforzi, le vostre fatiche dell'allenamento avrete perso tutti i gains. Io questo mi ricordo veramente, all'inizio andavo in palestra e appena terminavo l'allenamento mi fiondavo subito o a casa o avevo con me appresso magari un protein shake e me lo bevevo per paura di perdere tutti i gains. Questa è una cavolata, metterò la ricerca scientifica. In questo momento sullo schermo è stato provato che meal frequency non è importante, è molto più importante, anzi è fondamentale, il 99% è fondamentale, macronutriente e calorie nel totale, nell'arco della giornata. La finestra anabolica intorno al workout non è stata provata da nessuno studio scientifico rilevante, è teoricizzata ovvero è vero che ci potrebbe essere una possibilità che ci sta questa finestra anabolica intorno al nostro allenamento in cui i nostri muscoli rispondono meglio alle calorie che gli diamo che vengono direttamente mandati nel muscolo e quindi è da qui che è nato questo mito. Ma non dura 30 minuti come vedete qui sullo schermo Eric Helms e Brad Schoenfeld hanno provato che questo potrebbe durare anche 24-36 ore post allenamento. Quindi mi raccomando non cadete anche voi in questa trappola. Allo stesso tempo mangiare un pasto ogni 2-3 ore in miti di 6 pasti al giorno è stato provato che l'effetto termogenico totale nell'arco della giornata è uguale se mangi un pasto, 3 pasti, 6 pasti, 20 pasti. Quindi fate in modo che l'approccio che seguite, la dieta, la struttura che seguite, gli orari eccetera eccetera combacino bene per voi, funzionano per voi con il vostro stile di vita e non pensate a quello che ci dicono in media che è tutto una cosa a fasulla. Questo mito è stato portato avanti soprattutto dalle compagnie di integratori perché vi dico dovete consumare proteine 30 grammi post workout, proteine ogni 2-3 ore allora sì dai andiamo a comprare i nostri supplementi, prendo da qua che sennò brucia la massa non scomalare. Cavolata, ascoltate a me, ascoltate la scienza, non dovete mangiare ogni 2-3 ore, potete fare quanti passi volete nella giornata, l'importante sono i macronutrienti totali e calorie totali nell'arco della giornata. Passiamo dunque al quarto punto, una cosa che avrei voluto sapere veramente è che i supplementi, gli integratori di proteine, BCA, creatina non sono steroidi e non sono magici. Io onestamente la prima volta che mi sono comprato le proteine in polvere pensavo oddio ora vedrai nel prossimo mese diventerò una bestia. Mi sentivo già dopo il primo shake stavo per diventare, non lo so, l'incredibile Hulk e invece ragazzi è veramente tutta una cosa psicologica, i supplementi stanno a supplementare la vostra dieta, sono veramente una fonte semplicemente di proteine o di altri minerali, di altre vitamine, di altre sostanze chimiche che si trovano naturali, sono naturali, vengono ad esempio la cheratina la possiamo trovare nella carne rossa, i BCA, negli altri cibi è uguale a proteine, whey, le whey proteins è semplicemente un'altra fonte di proteine, un bi prodotto del latte, quindi anzi sono gli scatti del latte, quindi se beve del latte in teoria deve essere uguale alle proteine del latte e le whey protein. Non hanno niente di speciale, non sono uno steroide, non diventerete l'incredibile Hulk e per questo mi dico quando mi venite a chiedere, ah ma secondo te mi consigli di prendere whey protein eccetera eccetera, queste sono le cose che vi dirò di più importante, non è assolutamente essenziale, però è vero che come integratore potrebbe essere molto utile e conveniente e anche meno caro di magari una fonte di proteica differente, ad esempio se voi dovete consumare 150 grammi di proteine ogni giorno, magari mangiare pollo su pollo, carne, tonno eccetera eccetera, magari viene più costoso, veramente grammo per grammo un integratore di whey protein potrebbe aiutarvi a colpire i vostri numeri giornalieri senza dover spendere troppo tempo cucinando, senza dover spendere troppi soldi al supermercato, quindi potrebbe essere conveniente, utile e meno costoso. Non è magia, gli supplementi non vi faranno diventare Hulk, se prendete gli aminoacidi non brucerete più grassi magicamente, ragazzi servono a supplementare la dieta, per questo si chiamano supplementi. Quinto mito, e questo ragazzi veramente magari per il primo anno e mezzo di palestra che ho fatto io tanto tempo fa, quando avevo appena iniziato pensavo fosse così, le ripetizioni alte le dobbiamo utilizzare per tonificare il muscolo e invece le ripetizioni basse le dobbiamo utilizzare per diventare più grossi, per massimizzare il volume del muscolo. Anche questa è una cavolata, soprattutto voi ragazze mi avete già scritto in un paio dicendo oh ma se voglio tonificare il muscolo devo fare ripetizioni alto, ho sentito di qua e di là, no ragazzi, per costruire il muscolo qualsiasi tipo di ripetizione, bassa, alta, media, costruirà il muscolo allo stesso identico modo. Per tonificare il muscolo, se volete tonificare il muscolo, allora lì sta nella dieta che state consumando. Per vedere di più il muscolo, per vedere proprio le inserzioni e avere le vene, tonificare, pensate voi di tonificare, dovete andare in un periodo di definizione, dovete definirvi, dovete bruciare la massa grassa. Dovete pensarlo come due ingredienti ben distinti. L'allenamento, la cosa principale che volete fare con l'allenamento che fa l'allenamento è costruire la massa muscolare. Se voi poi volete tonificare il muscolo, volete avere più definizione, allora non è più l'allenamento, l'allenamento è sempre lo stesso, dovete passare a vedere la dieta, dovete modificare qualcosa, dovete come ho detto prima, magari diminuire calorie totali giornaliere, macronutrienti, cambiare un po' tutta la struttura della vostra dieta per entrare in un deficit calorico. In questo modo brucerete il grasso che ricopre i vostri muscoli, dopo un po' di tempo inizia a venire un po' più di definizione ed è quello che tonificherà i vostri muscoli. Stessa cosa per le gambe. Quindi ragazze e ragazzi, non andate in palestra facendo ripetizioni alte, pensando che quello vi possa aiutare, chissà in che modo a tonificare, mi raccomando. Allenamento per costruire la massa muscolare e la dieta per la definizione, poi messi insieme arriverete a un muscolo tonico. Eccoci qua, se stai ancora qui veramente ti ringrazio di cuore, sei il vero fan di Muscolavira e del canale. Apprezzo tantissimo il tuo supporto, il tuo like, i tuoi commenti, veramente è una cosa incredibile perché con questa, io praticamente parlo alla telecamera però raggiungo tutti voi, era una cosa che è veramente impensabile quando ho iniziato, quindi ti voglio ringraziare tantissimo se sei ancora qui, arrivato alla fine. La parte 2 la linko adesso dopo se la vuoi andare a vedere e veramente se puoi aiutarmi a far raggiungere più gente possibile se lo condividi con qualcuno che pensi che magari è ancora informato, male, misinformato, mi raccomando fallo, mi aiuta tantissimo, è un piccolo, piccolo sostegno che ti chiedo da parte tua. Detto questo, io ti ringrazio veramente tanto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!